ci connettiamo direttamente col meli ci siamo buonasera wow senza occhiali stasera mi ero più rilassato buonasera più rilassato bene però non vedo niente quindi andiamo a fiducia totale della connessione di tutto come non vedi no non vedo perché non c'ho gli occhiali scherzo scherzo simpatico simpatico umorista per regolare il aspettiamo qualche altro minuto e poi partiamo ti introduco addirittura quale onore ma sei a manattan vedo una finestra sono a manattan sì sì mi sono trasferito per la diretta però ho trovato un ho cambiato location dai vi porto vi porto in giro per casa non potendo andare io in giro per gli ovvi motivi portiamo la diretta in giro per casa e mica solo tu va bene un po tutti buonasera intanto dimmi dimmi no volevo partire no no fai 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 perché poi tagliamo il video per metterlo su youtube quindi devo avviare con il solito buonasera benvenuti buonasera benvenuti all'undicesimo appuntamento con la letteratura erotica dei libri di medea oggi una fortunata coincidenza perché in occasione del 25 novembre che la giornata mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo considerato questo romanzo tutto al femminile di erica young paura di volare un film film un libro culto uno diciamo delle colonne del del femminismo gli anni settanta ovviamente sempre nell'ambito dell'enoteca letteraria che abbiamo messo su col dottor meli abbiamo ho chiesto anche questa volta a piero di leggerlo di studiarlo di assimilarlo e poi di elaborare un abbinamento enologico appropriato quindi a te la parola piero va bene allora intanto io ti ringrazio per tutta l'attività che hai fatto oggi che ci hai tenuto compagnia da stamattina con credo otto sette o però a un certo punto perso il conto ogni tanto mi arrivava il pop up quattro quattro allora alcune mi sono arrivate a doppio va bene comunque grazie per questa per questo escursus che hai fatto che hai fatto oggi veniamo a noi allora paura di volare vabbè lascio a te la parte la parte letteraria però come hai detto mi sono l'ho studiato l'ho approfondito e mi sono divertito ad abbinare una bollicina faccio una piccola premessa come al solito non è un tipo di bollicina che io amo il prosecco più che altro perché ultimamente si è molto standardizzato verso il basso un po ovunque nelle serate negli appuntamenti ti propongono prosecco ma di scarsissima qualità e quindi questo ha portato un po a scemare il mio gusto e l'amore verso verso questa bolla però ne ho trovata una che ci ho messo un po per trovarla che si chiama punto g delle vigne di alice anche qui nel parallelismo con con l'opera diciamo letteraria che hai che andrai a presentare c'è questa chicca del di andrew good lover good love adrian adrian chiedo scusa ma io con le lingue non non ho dimestichezza italiano only e quindi anche anche sul sul romanzo troviamo un mister g invece qui abbiamo il il punto g lo vado avversare lo stappato prima qualche secondo prima sempre anche in questo caso direi che può bastare colore non so se lo vedete penso di sì classico giallo paglierino di questo tipo di vitigno appunto che da qui deriva il prosecco una bella bollicina persistente so se le vedete queste bollicine che schizzano verso l'alto spero di sì profumo classico di questo tipo di di vino quindi molto intenso però profumato frutti tipo mela peras tranquillamente forse si può trovare anche qualcosa di di ananas però una punta proprio io direi più su sui frutti tipo appunto la mela questi a polpa aiutami polpa più come può essere la polpa della mela più soda croccante croccante brava più croccante non mi veniva croccante brava stai studiando pure tu che qua ci riusciamo che io devo studiare il libro ma sulla parte unilaterale divino è unilaterale non va bene quindi dalla prossima settimana facciamo facciamo uno scambio tu mi mandi il libro perché io non devo impazzire a trovare le edizioni e io ti mando la bottiglia di vino e così allarghiamo questa va bene no tu non la reperisci te la mando io perché se aspetto che la reperisci tu diventa invecchiato mi va benissimo mi va benissimo piero benissimo perfetto uno scambio alla pari uno scambio alla pari così giornata del delle donne scambio alla pari va bene va bene intanto lo assaggio e ritroviamo tranquillamente quelle quelli che erano gli odori li ritroviamo anche all'assaggio e proprio a proposito della croccantezza del dei frutti di cui parlavamo prima eh classico proprio si sente la crosta di pane quindi quando si sente parlare di crosta di pane negli spumanti nei prosecchi a volte anche nei franciacort questo qui lo troviamo proprio classico enfatizzato poi se se gli amici da casa avranno l'opportunità di provarlo magari ci ci fanno sapere che che cosa trovano anche loro e poi il bello della degustazione è farla scusami se ti sento no 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 scusami tu e e farla farla insieme vedere insieme che cosa si si percepisce che cosa poi quando tutto questo sarà finito faremo sì assolutamente dobbiamo organizzare poi dei reading in presenza con troviamo qualcuno che che ci ospiti degustazione enogastronomica anche perché c'è proprio una branca eh della della letteratura abbinata all'enogastronomia si chiama enogastro ehm bibliografia ormai è consolidata una moda un trend che noi sposiamo mi è piaciuta moltissimo la storia tu hai fatto uno storytelling su questo vino abbinato al romanzo no proprio eh perché hai messo in evidenza al il punto g ma anche questa figura lì c'è che rimanda da lì c'è nel paese delle meraviglie qui abbiamo isadora nel paese delle meraviglie citato proprio nel degli psicologi degli psicologi e quindi sei stato bravissimo nel trovare delle corrispondenze delle attinenze delle sovrapposizioni tematiche eh tra il il vino che hai scelto non so se chiamarlo vino propriamente detto spumante spumante prosecco in realtà prosecco ok e eh e questo romanzo erica young paura di volare sì la tua edizione è più bella sì la tua è più figa della mia la mia è più retrodatata eh la tua è stata no questo è bonpiani è recente ma anche questa si è bonpiani perché di caiong ha pubblicato sempre solo con bonpiani in italia devi sapere eh e quindi questa è stata la tua è stata fatta recentemente in occasione dei quarant'anni sì del sì perché sono passati più di quarant'anni sì e sì dal 73 ti ringrazio dai è coetaneo è coetaneo nostro il libro ti ricordo di condividere non l'hai fatto forse la la diretta allora non l'ho fatto non l'ho fatto perché l'altra volta quando lo fa quando l'ho fatto poi si è persa la connessione ah ok ok era solo per facilitare l'accesso ai tuoi contatti no se tu eh lo so infatti molti mi chiedono e provo a rattaggarli poi sotto nei commenti poi se tu lo metti ehm quando lo metterai su youtube metto il il link ok va bene d'accordo grazie Piero noi restiamo ad ascoltarti io e punto G ti ringrazio buona serata a tutti puoi anche rimanere per me come al solito te lo dico non è un problema va bene allora ehm come eh abbiamo anticipato si tratta di eh un romanzo eh culto o cult utilizzando un un anglicismo un romanzo scritto da Erika Young nel 1973 tradotto in ben 40 lingue e che ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo immaginate e è diventato famoso per la controversa rappresentazione della sessualità femminile che ha scardinato un po il puritanesimo che c'era in America in quegli anni Henry Miller lo salutò come il corrispondente femminile di tropico del cancro immaginate tropico del cancro fece molto scalpore ehm fortunatamente mh però non è ehm altrettanto amaro ed è invece molto più fresco più spontaneo più ironico eh mentre John Haddick che è l'autore delle streghe di Eastwich non so se ehm ricordate questo romanzo film lo paragonò al giovane Holden di Salinger ehm leggendo questo romanzo io mi sono molto divertita ma sin dalle prime pagine perché leggere è come andare sulle giostre è davvero un'attività sorprendente eh spesso ehm ci si ritrova in un carosello di di film di di libri gialletti di citazioni di altri autori che si affacciano e ti fanno l'occhiolino infatti nelle prime pagine di questo romanzo di paura di volare eh è espressamente citato un episodio del film italianissimo l'amore difficile eh che è fatto costituito eh di quattro episodi di cui uno eh diretto e interpretato da un giovanissimo Nino Manfredi il film del 1962 diretto da oltre che da Nino Manfredi da Alberto Bonucci Sergio Sollima o Sollima e Luciano Lucignani sul soggetto di autori come Mario Soldati eh Alberto Moravia Italo Calvino ed Ercole eh Patti ebbene l'episodio eh cui fa riferimento eh Erika Young e che poi ha una centralità eh assoluta in tutta eh la storia è proprio quel quello interpretato e diretto da Nino Manfredi eh ed è un un cortometraggio che fa riferimento ad un racconto di Italo Calvino quindi immaginate questo girotondo Erika Young americana ebrea americana che eh si rifà ad un ad un episodio eh cinematografico tratto a stavolta da un racconto di Italo Calvino che è l'avventura di un soldato che dà appunto anche il titolo all' episodio un cortometraggio di un giovanissimo eh Manfredi che si confronta per la prima volta tra l'altro con la regia cinematografica e che realizza un racconto costituito solo di immagini i protagonisti non parlano non si scambiano neanche una parola tra loro eh è la storia di un soldato che si ritrova in un vagone ferroviario in compagnia di una vedova e c'è un un gioco di sguardi di di mani eh eh molto denso di sensualità eh di di narrazione sensuale ma senza che tra i due intercorrano mai eh parole ebbene eh tutto il sesso per il sesso permia l'intero eh episodio l'intera opera senza mai apparire eh in una lettera dall'altro del 1975 indirizzata proprio alla Young ad Erika Young ehm scrive il Italo Calvino che si dice molto soddisfatto della resa cinematografica di questo suo racconto ed io a tal proposito vi invito a recuperare questo film che è bellissimo io l'ho visto in bianco e nero chiaramente con una mimica una espressività facciale pazzesca dei due protagonisti non ricordo il nome del dell'attrice lui è Nino Manfredi giovanissimo Erika Young nata Mann nel 1942 a New York ebrea di origini e divenne famosa con questo suo eh primo romanzo col quale appunto eh creò scalpore per la franchezza utilizzata usata nel trattare temi eh delicati eh come il desiderio sessuale femminile in questo romanzo infatti vengono eh messi in risalto tutti i temi del femminismo degli anni sessanta che vengono vissuti dalla protagonista Isadora Wings mi piace ricordare anche lo slogan coniato per la pubblicità del di paura di volare che è una donna che parla di sesso come un uomo in realtà è una donna che parla di sesso come un uomo non farebbe mai perché le donne sono estremamente spontanee ehm franche dirette mentre un uomo eh tende sempre a missificare la sua sessualità ehm perché deve apparire chiaramente eh super invece la donna no è molto più aderente alla realtà e riesce ad essere persino ironica è un romanzo che non può essere liquidato come accade per tanta eh narrativa che discuote un notevole successo eh di pubblico come fenomeno di costume perché è stato in realtà un vero e proprio caso letterario vuoi proprio per lo humor che permia tutta la narrazione eh vuoi per la fantasia erotica per il tempismo con cui ha cavalcato ehm la la tigre usiamo questa metafora dei movimenti di liberazione femminile vuoi per questo ehm sesso senza cerniera eh di cui parleremo e che è stato mutuato da Italo Calvino ma veniamo alla trama la tigre usata erica young da vita a questa eh ragazza ventinovenne una poetessa Isadora White Wing eh una bionda con due natiche possenti superbe eh che frequenta l'ambiente più cool della città eh della città più cool del mondo tra l'altro quindi frequenta un ambiente eh di eh psicoanalisti eh a Manhattan New York quindi siamo eh in questa eh città Isadora è in viaggio in questo momento il romanzo inizia con Isadora che è in viaggio in aereo con il suo secondo marito un altro uno psicoanalista il primo marito era uno psicotico quindi giustamente dopo uno psicotico pare logico sposarsi uno psicoanalista sono diretti ad un congresso del del marito eh del settore quindi uno squadrone di psicoanalisti in aereo anche Isadora è inquieta eh agitata perché ha paura di volare ed esorcizza i suoi desideri nel eh bisogno di una zipless fuck la scopata senza cerniera quella che eh la Young appunto mutuato dalla dal racconto di Italo Calvino ed io vi leggo già Andrea io me le sanno le pagine però poi ho difficoltà a trovarle a proposito della zipless fuck della scopata senza cerniera uno scenario ideale per la scopata senza cerniera senza cerniera non perché gli uomini europei portano i bottoni al posto della cerniera e non perché i protagonisti sono così incredibilmente attraenti ma perché l'avvenimento ha tutta la velocità e la concentrazione di un sogno e come un sogno sembra libero da rimorsi e sensi di colpa perché non si parla del marito defunto di lei o della fidanzata di lui perché non si cerca di razionalizzare perché non si parla per niente la scopata senza cerniera è assolutamente pura non ha motivazioni recondite non ci sono giochi di potere l'uomo non prende e la nonna non da nessuno sta cercando di far cornuto un marito o di umiliare una moglie nessuno sta cercando di provare qualcosa o di ottenere qualcosa da qualcuno la scopata senza cerniera è la cosa più pura del mondo è più rara di un unicorno e io non l'ho mai avuta tutte le volte che ci sono andata vicino ho scoperto che l'unicorno era di carta pesta oppure che si trattava di due clown travestiti da unicorno con alessandro il mio amico fiorentino sono andata vicino alla scopata senza cerniera ma poi ho scoperto che anche lui era un clown travestito da unicorno pensate a questo razzo che è la mia vita e quindi avete già potuto notare con quanta ironia la young si approcci al mondo della sessualità femminile a una sessualità libera emancipata slegata dalla sfera affettiva anche se poi nelle ultime interviste erica young ha ritrattato dicendo insomma non concedetevi alla sessualità senza cerniera ecco ha recuperato la sfera affettiva legandola a doppio doppio nodo con con quella sessuale isadora e al quinto anno di matrimonio con bennet questo secondo marito che uno psicanalista freudiano un momento cruciale questo quinto anniversario di matrimonio in cui decidere se comprare lenzuola nuove perché quelle avute come regalo di nozze sono ormai consumate quindi c'è questa metafora della delle lenzuola consumate è evidente che non è italiana perché noi italiani abbiamo in dote quantità smisurate di lenzuola nella dote nel cosiddetto corredo al bene non sa appunto se comprare lenzuola nuova e quindi rinnovare questo legame non sa se avere un figlio non sa se continuare a vivere insieme a bennet sopportando la reciproca pazzia oppure mandare all'aria questo matrimonio questo secondo matrimonio e ricominciare a saltabeccare da un letto all'altro scrive erica young la decisione come naturale era ulteriormente complicata dall'analisi dato che l'analisi si fonda sull'ipotesi che l'analizzato migliora continuamente non importa se tutto sembra dimostrare il contrario il ritornello è pressa poco questo ero così autodistruttiva quando ti ho sposato tesoro ma adesso sono molto meglio ce l'ho fatta insinuando che tanto vale che ti trovi un marito migliore più bello più gentile più intelligente e magari perfino più fortunato in borsa al che lui potrebbe rispondere odiavo tutte le donne quando mi sono preso la cotta per te tesoro ma adesso va molto meglio ce l'ho fatta insinuando che tanto vale che lui si trovi una donna più dolce più carina più intelligente che sappia cucinare meglio e magari in procinto di ereditare un mucchio di grana dal padre ironizza moltissimo anche sul valore sui vantaggi del percorso psicoanalitico perché standardizza perché riduce ad archetipi i rapporti psicoanalitici e quindi i frutti di questi percorsi di conoscenza e quindi di di autoterapia isadora non è contraria al matrimonio però badate in realtà ci crede ci crede tantissimo perché reputa necessario avere un amico sincero accanto un compagno fedele in un mondo che è ostile anche se poi non non riesce a soddisfare tutti quei desideri che dopo un po inevitabilmente il matrimonio non riesce più a soddisfare desideri come le pulsioni sessuali il sangue che pulsa nelle viscere le farfalle nello stomaco la voglia di champagne secco di spumante puntuggi e di baci umidi isadora pensa al matrimonio con bennett come a un formaggino di panna e questa è la sensazione del del sesso col col marito mentre lei ambirebbe a un bel formaggio camembert isadora non sa che una volta scesi dall'aereo a vienna dove sa pertenersi questo congresso di psicoanalisti l'aspetta qualcosa o meglio l'aspetta qualcuno che in un certo senso offrirà delle risposte alle sue domande che offrirà delle chance di cambiamento ma non certo attraverso delle sedute psicoanalitiche curiosamente si imbatterà guardate un po che coincidenza nell'ennesimo psicoanalista uno psicoanalista però l'enghiano questa volta mentre il marietto bennett che tra l'altro un cinese americanizzato è jung e freudiano questo psicoanalista adrian è inglese è un ippi è un libertino e con attraverso la conoscenza molto leggera molto ironica con quest'altro uomo che l'affascina da subito adrian fuggirà per l'europa in giro per l'europa alla ricerca di se stessa persa in questa paura di volare con bennett invece il marito perfettino la minestrina calda si conclude quindi il matrimonio temporaneamente almeno per incapacità di lei di conciliare le sue ansie di libertà e di indipendenza con il bisogno inguaribile di molte di noi donne di certezze di stabilità quindi c'è questo scontro dentro di lei la voglia di avventura di libertà e il bisogno anche di avere una stabilità emotiva delle certezze la questione si pone soprattutto in relazione alla sfera sessuale perché isadora incapace di accettare il ruolo della donna sancito dalla società dal puritanesimo imperante ma è anche incapace di vivere i propri desideri ignorando tutto il resto scrive il romanzo in prima persona anche perché è chiaramente a sfondo autobiografico ero stata femminista tutta la vita ma il problema era conciliare il femminismo quindi questo bisogno di indipendenza di autonomia di libertà con quella mia fame insaziabile di corpi maschili e ancora oh lo so dico un sacco di belle parole e a volte penso perfino di crederci ma in realtà sono come la ragazza della essuardo voglio piegarmi ai voleri di qualche orrido essere brutale in base al principio che tutte le donne adorano i fascisti frase che dà il titolo al secondo capitolo del romanzo che non è nient'altro che un verso di una poesia di silvia platt il verso completo è tutte le donne adorano i fascisti una pedata in faccia il cuore brutale di un bruto come te è una poesia molto significativa di silvia platt che conoscete sicuramente tutti essere una delle più grandi poetesse americane contemporanee la poesia si chiama daddy è stata scritta nel 1962 e se la cercate su youtube troverete la stessa silvia platt che bella recita ed è bellissima silvia platt porta nella sua poesia proprio questo dissidio tra l'emancipazione femminile e invece poi la dipendenza affettiva dall'uomo in questo caso silvia platt era dipendente dal marito un altro poeta ted yug ebbene questa poesia era stata introdotta poi in una poesia del che silvia platt in una lettera chiedo scusa che silvia platt aveva inviato ad un'amica e che confermerebbe i maltrattamenti subiti da parte proprio del marito del poeta ted yug dal quale dice di essere stata picchiata più volte ad esempio nel 1961 pochi giorni prima di avere un aborto spontaneo una storia tremenda quella di silvia platt col marito costellata da autolesionismi dai tentativi di suicidio di lei ripetuti nel tempo prima e dopo l'incontro col marito ted yug dai ricoveri dagli elettroshock e alla fine dal suicidio andato a termine nel 1963 con la testa in un forno a gas insomma ho ritenuto giusto fare anche riferimento a silvia platt in una giornata particolare come questa perché è un prototipo di donna emancipata intelligente che però come diceva Almudena Grandes quando si innamorava perdeva il senno le donne intelligenti perdono il senno e diventano cretine quando si innamorano ma torniamo a Isadora che alterna una seduta di psicanalisi ad una di shopping una cosa divertentissima tra l'altro perché Isadora una di noi praticamente ma non riesci a capire come mai un sacco di gente comincia ad avere le palle piene dell'analisi è tutta colpa vostra tutta colpa di voi analisti del cazzo riducete il processo ad una specie di coma 22 il paziente parla 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 e continua a pagare 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 poi quando siete troppo ottusi per riuscire a capire che cosa sta succedendo o comunque quando vi accorgete che non siete in grado di aiutare il paziente non fate altro che prolungare la durata dell'analisi oppure gli dite di andare da un altro analista per cercare di capire che cosa non andava con il primo analista ma è possibile che non riusciate a capire l'assurdità di tutto questo? l'unica cosa che mi sembra assurda è il fatto di starmene seduto qui ad ascoltare una tirata come questa e così non posso fare altro che ripeterle quello che ho già detto se così non le va bene perché non si alza e si toglie dalle scatole? come in sogno non avrei mai creduto di essere capace di farlo mi alzai nel divano quanti anni avevo passato sdraiata là sopra presi il mio tacquino e camminai no non ce la feci a saltellare anche se mi piacerebbe averlo fatto fino alla porta uscì e la chiusi piano dietro di me niente porte sbattute avrei rovinato l'effetto addio Collar per un attimo nell'ascensore fui lì per piangere il tempo di superare due isolati lungo la Madison Avenue ed ero al settimo cielo niente più sedute alle otto niente dubbi tipo chissà poi se serve a qualcosa al momento di firmare quelle sberle di assegni ogni mese niente più litigate la suffragetta con il dottor Collar ero libera e poi tutti quei soldi che non ero più costretta a spendere mi tuffai in un negozio di scarpe e spesi immediatamente 40 dollari per un paio di sandali bianchi con catenelle dorate mi fecero sentire meglio di quanto mi fossi mai sentita dopo 50 minuti passati con il dottor Collar ok e così non ero una donna liberata dovevo ancora consolarmi comprando vestiti ma almeno mi ero sbarazzata di Collar era sempre qualcosa quindi come vedete Isadora una di noi perché manda il diavolo la psicanalisi e tutti gli psicanalisti che l'hanno avuta ancora in ultimo il dottor Collar per cercare di gratificarsi quindi di coccolarsi acquistando vestiti e scarpe io la capisco benissimo totalmente ed ora recuperiamo la figura del secondo psicoanalista dell'amante Adrian Adrian Goodlove il dottor G come lo ha definito Piero il dottor Buonamore colui che Isadora individua come il più probabile protagonista della sua scopata senza cerniera tanto desiderata in realtà scopriremo che mentre Bennett era noioso a letto ma cito l'autrice scopava benissimo Adrian scopa malissimo ma è molto divertente predica esistenzialismo predica libertà davvero hippie davvero libertino viaggia su una macchina sportiva decapottabile e la sfida in nome del piacere Adrian soffre di una forma di impotenza che rende i loro rapporti insoddisfacenti ma Isadora è un'assistente sociale la tipica croce rossina che perdonerà anche queste defiance ad Adrian scrive Lidia Vravera nella edizione che a Piero nell'ultima edizione della Bonpiani di Paura di Volare Lidia Vravera è una finalista del premio strega del 2008 non ricordo il titolo del romanzo ma poi è famosa per aver scritto Porci con le ali e anche un altro libro che si chiama Porno e Libertà scrive Lidia Vravera la nostra Isadora come la maggior parte delle donne non sapeva scegliere né la fedeltà né la trasgressione e allora come accadeva negli anni 70 tentava la coppia aperta dicendo al freudiano cioè a Bennet al marito dell'anghiano di Adrian dell'amante e all'anghiano del freudiano provando a surfare sul maremoto scatenato dalla sua perversa sincerità ecco perché è un po' Isadora in Wonderland nel paese delle meraviglie perché mantiene questa ingenuità nei rapporti sia col marito che con l'amante sempre secondo L'Aravera Isadora è dotata di tutti gli ingredienti perché la sua storia abbia successo agli occhi del lettore si intende a una madre sbagliata ha i quattro sensi dell'adolescenza cioè il senso di colpa il senso di superiorità il senso di inferiorità il senso di inadeguatezza e ha l'invidia penis ovviamente chiaramente ha il bisogno di compiacere i maschi e ha anche il potere della scoperta della seduzione femminile che però comporta anche una grande responsabilità ma soprattutto nel romanzo Brilla scrive L'Aravera come una stella cometa la percezione femminista del mondo della realtà quell'antenna particolare che vibra ad ogni sopruoso ad ogni stereotipo subito a ogni mancata occasione di riscatto di gioia di valorizzazione della donna ed io colgo l'occasione per attualizzare questo romanzo e per parlare di due importanti episodi che si sono verificati negli ultimi giorni faccio riferimento ad un noto editore barese tra i più storici d'Italia che ha con un tweet espresso manifestato tutta la sua ignoranza e il suo sessismo nei confronti della letteratura femminile dicendo che per lui la letteratura si ferma a Elsa Morante e Natalia Ginzburg in realtà non è così e quindi spero che gli editori imparino a leggere e un altro episodio gravissimo è un editoriale di Vittorio Feltri comparso sul suo giornale che colpevolizza ancora una volta la vittima di uno stupro ovvero colpevolizza la 18enne che è stata brutalmente stuprata da Genovese quindi è giusto fare anche riferimento all'attualità che purtroppo ci dimostra che siamo ancora in una società fallocrate adesso vediamo pagina 69 vi leggo un'altra un altro breve brano a volte credo che mi piacerebbe avere una figlia una bambina saggia e intelligente che diventasse la donna che io non sono mai riuscita ad essere una bambina molto indipendente senza cicatrici nel cervello e nella psiche incapace di servilismo di adulazione di seduzione accattivante una bambina che dicesse quello che pensa e pensasse quello che dice una bambina che non fosse né velenosa né melliflua perché non odia né la madre né se stessa quello che volevo veramente fare era dare alla luce me stessa la bambina che avrei potuto essere con una famiglia diversa in un mondo diverso abbracciai forte le mie ginocchia mi sentivo stranamente al sicuro là dentro sotto la pelliccia di mia madre tutte le mie fantasie prevedevano il matrimonio non facevo nemmeno in tempo a immaginare di scarpar via da un uomo che già mi vedevo legata a un altro ero come una barca avevo sempre bisogno di un porto nel quale riparare semplicemente non riuscivo a vedere me stessa senza un uomo senza un uomo mi sentivo sperduta come un cane senza padrone mi sentivo senza radici senza volto indefinita e la paura di volare è proprio questa qui la paura di restare sola di non avere riferimenti al di là di se stessa Isadora ricorda quindi come abbiamo visto il matrimonio sognato durante l'adolescenza piena di ideali basato sulla reciprocità totale assoluta sull'amicizia sull'uguaglianza di ruoli ignorando la realtà invece di uomini in poltrona con le mani incollate all'epoca era il giornale adesso il cellulare mentre lei la donna sparecchia Isadora si dice che forse i matrimoni migliori sono quelli fra persone di mezza età quando si superano tutte le stupidaggini e ci si accorge che ci si deve amare l'un l'altro perché si sta scivolando verso la morte anche perché più si invecchia e più diventa chiaro che gli uomini sono fondamentalmente terrorizzati dalle donne soprattutto quelle più emancipate le quali ormai liberate perché insomma l'emancipazione si conquista anche con l'età spesso si trovano ad espletare il ruolo come vi dicevo prima di assistenti sociali nei confronti di questi uomini impauriti che manco il panda tutelato dal WWF il carosello tra Bennet e Adrian però proseguirà per tutta la durata del romanzo pagina perché il libro 169 da quel momento in poi cominciò il carosello andavo alle riunioni con Bennet con la ferma intenzione di restarci giuravo a me stessa che non avrei più visto Adrian che era tutto finito che me l'ero già spassata abbastanza e che dovevo piantarla poi vedevo Adrian e non capivo più niente quindi inizialmente lascia Bennet parte in giro per l'Europa con Adrian ma si accorge che Adrian non le dà quello che lei vorrebbe e quindi torna da Bennet quando sta con Bennet decide di lasciare Adrian quando vede Adrian invece si sente soggiogata dalla sua presenza vanno a teatro si trovano insieme in una circostanza dopo pranzo durante quella prima giornata di congresso dissi a Bennet che andavo in piscina e me la squagliai con Adrian andavo al mio albergo presi il costume da bagno mi misi il diaframma mi attrezzai di tutto punto e poi andai con Adrian alla sua pensione arrivati in camera mi spogliai in un minuto e mi sdraiai sul letto non ce la fai più eh? mi chiese non ce la faccio più ma per Dio perché? abbiamo tutto il tempo che vogliamo quanto tempo abbiamo? tutto quello che vuoi rispose ambiguo in breve se mi avesse lasciato sarebbe stata colpa mia gli psicanalisti fanno di questi scherzetti non fatevela con uno psicanalista per nessuna ragione è il consiglio che voglio dare a tutte le lettrici inesperte comunque non fu un granché una cosa media aveva ancora le bandiere a mezzasta e si dimenava come un matto dentro di me sperando che non me ne accorgessi ne ricavai ho un pallidissimo orgasmo e una figa dolorante ma ero contenta lo stesso chissà perché adesso riuscirò a liberarmene pensai non è capace di scopare riuscirò a dimenticarlo che cosa stai pensando mi chiese tipico maschile che sono stata scopata per bene e ricordai di aver usato la stessa frase con Bennett una volta ed era molto più vero sei una bugiarda e un'ipocrita perché vuoi raccontarmi balle lo so benissimo che non ti ho scopata come si deve posso fare molto meglio di così fu colta di sorpresa dalla sua sincerità ok confessai con aria triste non mi hai scopata come si deve lo ammetto così va meglio perché ti comporti sempre come una dannatissima assistente sociale per guarire le ferite del mio ego lo pronuncio ego ci pensai un attimo che cosa stavo facendo pensavo semplicemente che con gli uomini bisognasse agire così altrimenti si squagliavano e impazzivano non volevo far diventare matto un altro uomo questo è il ruolo della assistente sociale che lo scusa altrimenti detta croce rossina che spesso noi ci ritagliamo perché ci sentiamo quasi obbligate a dover compiacere a dover applaudire le performance maschili anche quando non sono totalmente appaganti gratificanti nel 1973 con buona pace delle difficoltà e delle remore di Erika Young paura di volare sconvolge letteralmente il panorama letterario americano in virtù della capacità di Erika Young di analizzare la sessualità e l'affettività femminili senza inibizioni totalmente priva di perbenismo ipocrita Erika Young concretizza sulla carta e lo abbiamo visto il desiderio femminile di voler soddisfare al pari degli uomini desideri sessuali e voglie sessuali non necessariamente legate ai sentimenti la zippless fuck il sogno di viaggiare in treno e di incontrare uno sconosciuto con cui avere un rapporto sessuale totalmente slegato all'affettività e secondo alcuni studi di sessuologia alcuni anche sondaggi questo è proprio il sogno femminile più ricorrente l'incontro sessuale fugace in treno con uno sconosciuto il romanzo si conclude con Isadora abbandonata a Parigi dall'amante da Adrian che la delusa sessualmente con la sua impotenza legata alla paura nei confronti di questa donna vivace frizzante nei confronti della sua intelligenza soprattutto Isadora torna da Bennet sebbene abbia ormai trovato se stessa nella sua solitudine il romanzo punta proprio su questo ovvero su come una donna riesca a trovare la propria identità separata dai genitori separata dagli amanti dagli amici dai fratelli dai mariti appunto nella parte centrale del romanzo tra l'altro Isadora avevo dimenticato di dirvelo pensa se nessuno mi ama non ho identità quindi identifica il suo essere donna con il fatto di essere amata da un'altra persona e questa è la paura di volare l'aerofobia la paura di un volo metaforico appunto quello verso la libertà da notare tra l'altro il significato del cognome di Isadora che è wing che significa in inglese proprio ala nomen omen avrebbero letto i latini a distanza di 40 anni questo romanzo scritto ripeto in prima persona con uno stile molto spigliato frizzante molto ironico accattivante non ha assolutamente perso il suo appeal non ha perso il suo senso nonostante tutte le conquiste anche se per lo più apparenti fatte dalle donne durante questo arco temporale si parla sempre di sesso nel romanzo è vero ma è sempre affrontato con toni provocatori con un linguaggio diretto pruriginoso ma ironico e questo parlare di sesso per Erika Young ha rappresentato solamente uno strumento per uno strumento narrativo uno strumento sociale per rappresentare le lotte delle donne a cui la paura non ha mai impedito di essere coraggiose e questo secondo me rende grande un'opera a differenza delle famose sfumature le citiamo sempre in cui invece si ingabbia completamente la libertà della donna e dell'uomo di vivere un rapporto e si ritorna ad una visione medioevale dell'atto sessuale dove la donna dà e l'uomo prende cosa che invece Erika Young nelle prime pagine del romanzo ha capovolto dicendo che la donna non dà l'uomo non prende in questa scopata senza cerniera dove appunto non c'è scambio nelle 50 sfumature non c'è scambio che invece è presente in paura di volare ma c'è solamente il possesso di Mr. Grey nei confronti di Anastasia vi leggo l'ultimo brano branetto eccolo nessuno può completarci dobbiamo essere noi a completare noi stessi se non ci riusciamo la ricerca dell'amore diventa autodistruzione e poi cerchiamo di convincerci che questa autodistruzione è amore è una conclusione che trovo assolutamente pertinente alla giornata e un consiglio per tutte noi donne io vi consiglio ovviamente la lettura perché è divertente non c'è Rosettana ma c'è solamente questa libertà di costumi questa intelligenza viva dell'autrice che si manifesta attraverso il suo alter ego Isadora e che ci mette nella condizione di porci questa domanda e noi quanta paura abbiamo e voi quanta paura avete vi ringrazio per la compagnia vi do l'appuntamento a domenica con i premi strega degli anni settanta un decennio insomma pesante e tosto gli anni di piombo e invece mercoledì prossimo parleremo di un romanzo scritto da un uomo Bukowski grazie a tutti e buonanotte grazie a tutti